Benvenuti su News Mix Up. Prima di iniziare, vi ricordiamo di lasciare un like, commentare e attivare la campanellina per non perdere nessuna notizia in tempo reale. Marina Berlusconi ha recentemente condiviso la sua opinione sul caso Gian Bruno, che è stato scatenato dai commenti trapelati fuori onda da «Striscia la notizia». Durante un'intervista con Bruno Vespa, Marina ha espresso la sua profonda stima nei confronti di Giorgia Meloni, sia dal punto di vista personale che politico, Marina ha affrontato il tema degli audio trapelati, sottolineando la presenza di molte storie contraddittorie e ricostruzioni prive di logica. Questa posizione è in sintonia con l'espressione di dispiacere di Pier Silvio Berlusconi e con il suo rifiuto di avere avuto conoscenza preventiva dell'incidente. Entrambi sembrano prendere le distanze dalle suggestioni di manovre politiche legate al caso, c'è speculazione su ulteriori possibili divulgazioni, sebbene il CEO di Mediaset abbia rassicurato Meloni sull'impegno a evitare ulteriori falle. La curiosità del pubblico rimane alta riguardo a possibili nuove rivelazioni che potrebbero alimentare ulteriori polemiche. Sono incoraggiati i commenti e le opinioni sulla questione, indicando un interesse continuo nello sviluppo di questa vicenda.